Poi Marx uscilla, uscilla moltissimo. Perché uscilla? Perché ovviamente la prima idea è la rivoluzione. La rivoluzione è un concetto moderno, è un concetto erotico, è un concetto semplificatorio, perché vuol dire con un atto, con un gesto, con una giornata, risolvi una questione. Poi Marx, da una parte, è perfettamente immerso nel secolo delle rivoluzioni, dall'altra è un pensatore troppo sofisticato per affidare alla rivoluzione la soluzione dei problemi borghesi, la città della rivoluzione. Quella di Marx, che vuole essere una rivoluzione non politica ma sociale, cioè una modificazione radicale dei rapporti di produzione, non può essere affidata all'unico gesto politico. Marx non ha la rivoluzione, non è sovrapposo. È un violento come pensatore, ma in lui la violenza non ha un ruolo teorico. La vede, ma appunto, Marx ha una struttura dialettica di pensiero e la dialettica con la violenza non ci sta. La dialettica è immediata, anche se è il riconoscimento di tutte le contraddizioni, anche se alla fine giunge alla tesi che un rovesciamento deve avvenire, non affida questo rovesciamento a un gesto, a un colpo. Perché? Perché sarebbe troppo facile. Affida il rovesciamento a una maturazione per cui ci deve essere, bisogna lasciare che ci sia un progresso. Naturalmente il progresso è il concetto borghese, il progresso borghese fa gli interessi dei borghesi, però serve anche a produrre una base sociale proletaria estesa e serve anche a dare il tempo al partito, di radicarsi. Quindi non siamo davanti a teoria del colpo di Stato. Non ci sono colpi di Stato. Colpi di Stato gli fanno i borghesi. Anzi, a ricordo tutte le rivoluzioni borghesi sono dei colpi di Stato. Perché? Una rivoluzione borghese viene sempre dopo. Cioè è veramente un colpo di Stato che spazza via una sovrastruttura politica ormai incapace di contenere le nuove forme di produzione che sono già nate dentro il vecchio sistema politico, che trova nel vecchio sistema politico una gabbia che deve essere abbattuta. Cioè c'è già ciò che deve ciò che importa. Quando c'è una rivoluzione borghese ciò che importa è già avvenuto. Allora, la rivoluzione comunista invece si trova davanti al compito di creare ciò che importa. per cui, cioè il comunismo, bisogna che prima i borghesi abbiano fatto tre quarti del lavoro. Cioè abbiano sviluppato l'industria, abbiano allargato la base operaria, abbiano consentito grazie alle libertà borghesi la propaganda socialcomunista. E poi si deve capire che cosa avviene e qui c'è il grande enigma. Marx di rivoluzioni vere non ne ha vista neanche. Cioè ha visto quella del 48, che è quella da cui nasce l'idea che non bisogna fare rivoluzioni senza prima aver fatto la critica dell'economia politica. E poi vede la comune. e sulla comune naturalmente spende parole di entusiasmo. Spende maledizioni nei confronti dei russiani e delle élite francesi che fino al giorno prima si erano fatte la guerra e poi si mettono insieme per sparare sull'operai della comune. Benissimo. Però lo sa benissimo che la comune non è la grande rivoluzione. per cui affida alla comune un valore di testimonianza. Come si faccia a far politica? Marx non lo dice mai. È molto bravo a criticare gli altri che la fanno e non ha la teoria della politica. Meno che mai ha la teoria delle istituzioni di una società comunista. Perché la società comunista è di istituzioni che dovrebbe avere molto poche. E lascia tutto ciò in compiuto e offerto alle interpretazioni degli altri, da Sovelmo al Jemen, a Kauski, a Bergson, poi a Grange. Questo è quello che vuoi fare. Perché? Forse siamo del pensiero politico di Marx quando parliamo di questo. Perché? Ecco perché. Perché Marx non può pensare alla politica. Perché il pensiero dialettico non è normativo, da una parte. per cui non pensa per universali, per ideali, da una parte. E dall'altra sa che il pensiero deve entrare nella contingenza. Certo. Ma tutte le volte che il pensiero entra nella contingenza per il pensiero dialettico, la contingenza viene elevata a spirito o a struttura di qualche cosa. Non è mai lasciata così con me. E invece la politica è proprio tra i conti con la contingenza. E i conti con la contingenza nel pensiero non li fai mai. Per definizione. Perché se tu pensi la contingenza, quello che hai pensato non è più contingenza, diventa un concetto. Se pensi un oggetto lo trasforma in un concetto. La contingenza si soprae al pensiero. Il pensiero dialettico trova nella contingenza il proprio limite. Sa di dover andare in quella direzione. Ha la pretesa di penetrare ovunque nella società e nella storia. Però quando si tratta di produrre contingenze, non ce la fai. Perché la contingenza non la si produce col pensiero. Per cui si ferma sulla soffia, detto in un altro modo. In Marx non troverete l'immediatezza. L'immediatezza originaria, cioè il rapporto di condizione capitalistica, è in se stesso una mediazione. Il comunismo è un'idea limite. In mezzo c'è soltanto un sistema di mediazioni, viste dai borghesi in un certo modo, da Hegel in un altro modo, da Marx in un altro modo ancora. Marx dice che alla fine, dalla mediazione come la lì di lui, ci deve essere un progressamento. Ovviamente non dice né come né dove né quando né perché. Cioè, a quel punto la dialettica tace. non può che facere. O se prosegue diventa riformismo. Cioè, teoria del progresso. Se accetta di cessare come pensiero, diventa sorella. Cioè, diventa azione, ma quando diventa azione, l'azione è azione, non è il pensiero dell'azione. Per cui, il fascino di Marx, che Marx esercita su croce e su gentile, è questo. Che questi, che erano filosofi di gran classe, leggono Marx e capiscono ogni volta. C'è uno che sta dicendo che la verità della filosofia è la azione. Fantastico. E poi gli chiedono, beh, e allora? E allora avete un gentile che dice, beh, adesso dove poi penso io e penso l'atto puro. Dove il pensiero e l'azione sono la stessa cosa. Un croce che dice, beh, dove poi penso io e penso la storia, che è fatta tutta di azioni e la filosofia non è nient'altro che storiografia. E allora ringrazio Marx perché ci dà il criterio per la storia. Oppure, so è che dice, bene, alla bianca vita. Allora, la filosofia la si fa tagliando la testa ai socialisti che sono entrati in parlamento, invece che sta fuori, per le strade, a fare col mito, col mito, non con la ragione, ma fare da nulla, per le strade. Oppure si fa come Schmitt che dice, va là, Marx, che sei ancora un migliano, che davanti alla decisione arretti. dici che c'è la grande decisione, grande conflitto tra borghesia e il capitalismo, lo dici e poi col tuo pensiero non ci si arriva mai. sei ancora un migliano, sei ancora tutto interno alla mediazione. la grande immediatezza, e la grande immediatezza ce la soveglia, la grande immediatezza vuol dire, vuol dire fare il passo fuori dal pensiero dialettico e entrare nel pensiero negativo. cioè, abbandonare tutto, non credere più all'essenza del pensiero dialettico, che è la coincidenza di ragione e realtà.